Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. La paura dell'ignoto è un terrorinnato ancestrale, un utile istinto di sopravvivenza che è abbastanza comune per gli essi umani, ma a volte può trasformarsi in paura di qualcosa di specifico, come la paura degli alieni che prendono il controllo del nostro pianeta. Le persone si chiedono da decenni, gli alieni attaccheranno la Terra? E se lo facessero, come lo farebbero? Nel 2018, gli astrofisici Michel Ipke dell'Osservatorio di Sonnenburg in Germania e John Lerned dell'Università delle Hawaii hanno pubblicato un articolo che proponeva possibili scenari di un attacco alieno. L'obiettivo principale della loro tesi è quello di dimostrare che gli alieni potrebbero essere in grado di hackerare la Terra. E come? Organizzazioni come la ricerca di intelligenze extraterrestri o SETI, istituti che cercano la vita aliena e cercano un dialogo pacifico con essi, molti progetti in tutto il mondo, incluso un team del nuovo telescopio FAST cinese, il più grande telescopio del mondo, finora non hanno sentito niente di molto realistico. Ma Ipke e Leonard credono che ci sia di meglio. In effetti, sospettano che i messaggi alieni dello spazio possono contenere dati dannosi progettati per causare panico sulla Terra. Un messaggio così infetto sarebbe e potrebbe rappresentare una minaccia esistenziale. Pertanto, gli umani dovrebbero essere estremamente attenti a ciò che desiderano. Secondo la ricerca di Ipke e Leonard, ci sono diversi modi in cui la civiltà extraterrestre possono annientarci con un solo messaggio. Ma ne parliamo dopo aver lanciato la sigla. In uno scenario, gli alieni invieranno un messaggio con una minaccia del tipo «Domani trasformeremo il tuo Sole in supernova». Indipendentemente dal fatto che sarebbe effettivamente in grado di farlo, non è importante, ma Ipke e Leonard credono che il messaggio possa causare un panico diffuso, sufficiente per disabilitare le nostre strutture sociali e la nostra capacità di organizzare la nostra difesa. Un secondo scenario considera la possibilità che i dati nel messaggio alieno siano altamente compressi al fine di aumentare la velocità di trasmissione. Gli esperti lascerebbero probabilmente i computer per gestire la decompressione dei dati. Ipke e Leonard suggeriscono che il messaggio potrebbe contenere codici dannosi in grado di infettare i computer. All'inizio degli anni 2000, l'Istituto SETI ha proposto di decodificare i messaggi su computer con intercapedine d'aria. Per questo motivo, i computer con intercapedine d'aria sono isolati da reti non sicure, nel senso che non sono direttamente collegati a Internet, né collegati a nessun altro sistema collegato a Internet. Sono anche fisicamente isolati, il che significa che i dati possono essere trasmessi ad essi solo fisicamente tramite USB, supporti rimovibili o Fireware. Ma Ipke e Leonard sostengono che si tratta di una protezione insufficiente. L'isolamento di un computer potrebbe funzionare se il messaggio viene ricevuto solo in una posizione. Ma cosa succede se ci sono buone probabilità che ciò accada il messaggio è stato ricevuto da più osservatori o addirittura raccolto da radioastronomi dilettanti, i cui computer non possono essere messi in quarantena? Ipke e Leonard considero anche uno scenario in cui le civiltà extraterrestri invieranno una macchina di intelligenza artificiale con un messaggio positivo del tipo Siamo amici, la nostra galassia è collegata a voi e sotto forma di questa intelligenza artificiale con la nostra lingua darà dell'istruzione per come collegarci. In questo caso, se l'umanità sospettasse che questo dono fosse un cavallo di Troia, gli scienziati potrebbero isolare la macchina, magari facendola volare sulla Luna, in modo da poterla esaminare, se necessario, e terminare i loro studi in qualsiasi momento. Qui cercherebbero di isolare con successo una intelligenza artificiale altamente avanzata. Qui gli alieni potrebbero essere in grado di persuaderci, offrendoci qualcosa di grande ed eccitante, come la cura per il cancro, in cambio della libertà dell'oggetto della macchina intelligenza artificiale. E sebbene per noi possa essere razionale contrattare con l'intelligenza artificiale, Ipke e Leonard meditano sulle conseguenze di questo scenario in cui si possa risolvere il problema del cancro sul nostro pianeta Terra. Postulano anche che naturalmente i funzionari potrebbero rifiutare tale offerta dall'intelligenza artificiale, ma non dimenticare che gli esseri umani sono molto coinvolti in questo esperimento. Ad esempio, considera una conversazione notturna tra l'intelligenza artificiale e uno di questi funzionari. Tua figlia sta morendo di cancro e noi ti possiamo dare la cura per un piccolo prezzo in cambio. Qui, naturalmente, non possiamo mai escludere errori ed emozioni umane. D'altra parte, Seth Shotak, astronomo senior presso l'Istituto SETI, ha detto alla NBC News che Ipke e Leonard trascurrono una serie di aspetti tecnici che il malware spaziale avrebbe dovuto superare per hackerare i nostri computer e distruggere la Terra. Nelle parole di Shotak, se questi cattivi alieni sono più di 40 anni luce di distanza, vincono. Sappiamo che abbiamo personal computer per non parlare del sistema operativo a cui dovremmo rivolgersi. Se mancano più di 80 anni luce, non sapranno che abbiamo computer di qualsiasi tipo. Pertanto, anche se gli alieni potessero raccogliere il potere di trasmettere il loro malware attraverso lo spazio, dovrebbero comunque rendere il codice compatibile con un sistema informatico che nemmeno sanno che esiste. E naturalmente, qui c'è da porsi una domanda. E come potrebbero fare? Ma questa non è la prima volta che qualcuno ha speculato su un possibile hacker alieno. Oltre ai numerevoli libri e film, c'è stato uno scherzo ben fatto e come lo chiameremo oggi un esperimento sociale il 26 novembre del 1977. Qualcuno ha hackerato la televisione del Sud Network, il titolare della licenza per il servizio ITV che copre parti del Sud e del Sud-Est e del Sud-Ovest dell'Inghilterra. E' interrotto anche le notizie della TV Andrew Gardner. Verso le 17, quando Gardner riportava i titoli della giornata, l'immagine televisiva oscillava leggermente e Gardner era messo a tacere, sostituita da una voce distorta, recapitando un messaggio di sei minuti. Si presumeva che fosse un comunicato di Vrillon, un individuo che rappresenta un corpo chiamato Comando Galattico di Ashart. Tutto il comando richiesto era che gli umani rinunciassero ai modi bellici e accettassero un'esistenza più pacifica prima che fosse troppo tardi. L'evento è stato riconosciuto come una bufola dall'autorità indipendente di radiodiffusione 42 anni dopo. Dopo anni di esplorazione dello spazio, nonostante le migliaia di esperti coinvolti e non importa quanti siano, non abbiamo ancora trovato alcuna forma di vita intelligente, almeno ufficialmente. Forse è saggio che ci siano persone che stanno già discutendo su queste ipotetiche e creature viventi che potrebbero annientarci. Ma al di là della teoria di questi due scienziati, forse dovremmo più concentrarci sulla prova della vita extraterrestre. Tu cosa ne pensi? Grazie per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima. Grazie per l'attenzione, Grazie per l'attenzione,